sono tornato evviva potere pelato come state? buonasera vi vedo arzilli o forse no chi può dirlo so che sono in ritardo si ci ho impiegato un'ora più di quanto avrei pensato ma sta per uscire un video bellissimo il video più bello di tutti che potremmo anche vedere insieme ma non lo faremo perché sennò poi non andate a vederlo e io non guadagno views views quindi ora pubblico il video datemi un secondo che pubblico il video c'è un tizio seduto sopra una notizia è un video di Breaking Italy di 9 anni fa quando usava ancora le immagini clickbait ah il clickbait ciao docbrown666 come va? benvenuto sei tipo la versione malvagia di quello di Ritorno al Futuro buonasera Lele e ciao Jason ciao tratello ciao fratello Uldra benvenuti a tutti ho preso anch'io la taverna di mezzanotte bravo Lele fa Lele raflion bravo Lele raflion hai fatto bene e scusate solo un secondo che cerco di fare una cosa fondamentale ovvero andare sul mio youtube studio e mettere la pubblicità perché se non guardate la pubblicità io non prendo i soldi della pubblicità viva la pubblicità grazie FIFON fa02 per l'abbonamento comprai è la prima volta che ti abboni credo FIFI punto iscrivativo sub per entrare fai sub del gruppo telegram dei sub e parlare con tutti gli altri sub e con me viva la pubblicità ricordatevi che quando guardate la pubblicità state finanziando pelati e fumetti quindi guardate le pubblicità che tipo di video può essere questo video delle mie varie playlist non è novità fumetti non è trailer pelati e fumetti pelati e fumetti serie tv si ok va bene ok va bene aspettate mostra l'altro tag devo mettere i tag allora mettiamo okai okai occhio di falco msq marvel cinematic universe teorie spoiler cazzate ce lo metto sì mefisto e anche mefisto scritto con la f e scroll anche secret invasion sì ok kingpin giusto kingpin ok anche se anche se anche se fratello fratello usa prima guarda il video poi io sono sicuro che qualcuno prenderà questo video sul serio e sarà bellissimo io ne sono certo che qualcuno lo farà certo come mi chiamo adalgisio doc adalgisio lo zio zio ben non è davvero morto o forse è morto ma c'è un altro zio ben in giro giusto faranno reaction adesso spero di no perché non ha nessun senso forse lo mefisto qualsiasi dei mefisto deve essere una qualsiasi dei mefisto ok perfetto va bene va bene e mi spiace vi ho fatto uno spoiler sul video è un po' triste questa cosa comunque il video esce adesso pubblico pubblicalo bravo l'hai pubblicato è pubblico aspettate che lo condivido però lo condivido qui facciamolo poi vediamo i fumetti adesso fatemi finire allora è anche uscito un video il titolo del video è il titolo vero il titolo del vero è ok tutti i segreti veri verissimi ciao batwoman chiara si nell'episodio 5 eh cosa no nell'episodio 5 il 5 è il prossimo pubblico i video anche lui è furbo vado a vedere il video o resto no resta resta che ti frega del video tanto è brutto tutti i segreti veri verissimi bello io lo guarderei subito se fosse in voi ci sono anche la copertina è molto bella perché ci sono io che faccio così guarda ve la faccio vedere guardate che bella la copertina tutti i segreti guardate com'è fatta con attenzione in realtà il bianco finge di essere neve per fare questo effetto un po' invernale eh quanto sono figo no no tutti i segreti veri verissimi vero verissimo potresti andare in tendenza speriamo di sì ciao Fionfa benvenuto nel gruppo dei sub comunque per te ora che Billy Bat non è più Goen con tutta probabilità finire in mano a Panini guarda io sono certo al 100% che l'ha preso o Panini o Star Comics o J-Pop ne sono sicuro al 100% che poi non è mica detto che l'abbia preso qualcuno e hanno solo detto che non faranno loro la nuova edizione mi pare io non ho visto la live di Konkiri ovviamente non mi fai un cazzo comunque è probabile ma non è che non è questione di avere il monopolio è che in genere i giapponesi adorano lavorare sempre con gli stessi autori cioè con gli stessi case editrici se possono tendono a avere rapporti univochi univoci per cui hai mai visto altra gente pubblicare roba della Takashi soprattutto le case editrici cioè se io sono Sue Isha e ho in mano Tizio a cazzo tenderò probabilmente Tizio a cazzo a darlo tutto la stessa casa editrice in genere sì alle Poz ma guarda che basta non pagare più i diritti per non essere più di proprietà di Goen non vuol dire che qualcuno fa una nuova edizione cioè costa tenere lì ferma la serie poi magari arriva ma non è detto che arrivi subito magari arriva fra tre anni a meno che non ci sia un'altra casa editrice che dice capito il concetto sì però Yu Yu Hakus è uscito anche 60.000 anni fa per 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 star potresti gentilmente ripetere no abbonati e tu non ti perdi i pezzi comunque ho solo detto che può uscire ma potrebbe anche essere che esca fra tre anni non ne sappiamo un cazzo perché basta che non paghi i diritti e non è più tuo ne parvi di negazionisti cileni sicuramente qualcosa di sbagliato hai fatto Cesare tipo non so chattare con due utenti contemporaneamente cos'è quel palazzo di fumetti intendi questo o intendi questo perché se intendi questo è il cofanetto di future state a cui manca uno spillato se intendi questo sono i fumetti che guardiamo fra poco e aspettate soltanto fatemi soltanto condividere su facebook e su twitter questo bellissimo video e poi arrivo twitter e facebook allora condividi su una pagina che gestisci filati i fumetti pubblica pubblico sul mio profilo personale pubblico e su twitter ok tutti i segreti veri verissimi per davvero no vabbè bene così twitto bello anche se a festa è voluto comunque venire la live stasera ma la combo febbre post vaccino e occhio di gambit al mio ha steso beh ottimo il documental che è distrutto va bene ma torniamo a noi che poi siete anche voi fammi vedere che palle asfufu madonna questo stiversal per parabola sempre le stesse robe adesso te lo becchi piccolo perché così impari non è questo non è neanche questo dovrei cazzoare o sei qui su se per le stesse robe mi chiedete un po' mi annoio non lo vedo vado a prendere quello grosso blam cofanetto uscirà per la fine dell'anno verrà rimanato gennaio per il problema della carta che cazzo ne so adesso te lo becchi piccolo le mie sorelle e le sue amiche mi stanno rompendo i coglioni quante anni hanno le tue sorelle le tue sorelle e le sue amiche sono molto più piccole di te nel caso no e che sei illegale io eviterei di essere in live in questo momento non per le sorelle cioè non per la cioè non per la sorella solo per le amiche nel caso è la stessa roba cioè se intanto prendete tanto uscire vedrete che se avete sfiga vi escono tutti insieme comunque cioè fanno uscire tutti e cinque i numeri insieme ma mi sa che fanno così tra l'altro per cui vi conviene prendervi il cofanetto e vaffanculo sennò poi non li trovate più panini non fa magazzino chi l'è chi l'è ciao dominic 890 russo benvenuto e grazie del follow ma su amazon non c'è questo mi pare c'è ancora galactus verde non so perché l'avessi fatto verde così parla galactus solo si vede un cazzo perché è gigante perché è più vecchio questa edizione va bene allora asfufu ti sei risposto da solo perché costa così tanto perché è la versione francese o tedesca i prezzi di panini non sono univoci nelle varie nazioni così dipende ora lo piazziamo qua sopra sennò si perde avete visto che ho messo le lucine dietro guardate che bello c'è è arrivato un pezzo di casa in realtà perché lì c'è un po' di riflesso meglio così non c'è riflesso questa è una ricolorazione nella prima stampa di una strada viola i colori in genere sono diversi che belle non credo sia una ricolorazione se sei diversa ti inculo se non è diversa ti inculo ok che cazzo di numero è il silver star che padre non si vede una sega qua sotto qua è ancora verde qua era verde poi perché avrebbero voluto ricolorarlo non è così nuovo questo fume cioè non è così vecchio parabola in teoria non ho idea di quando sia Cesare Dani adesso o mi fornisci una prova di questa cosa trovandomi online un'immagine o io ti banno poi vedi tu tanto non ti sei mai abbonato poi vedi tu eh secondo te più Carisma Capitano America o Ciclope ovviamente ma ovviamente Ciclope Capitano America è un reazionario americano degli anni 40 30 20 anni 20 è tipo mio nonno è biondo rompe i coglioni la bandiera Ciclope è assolutamente superiore a chiunque altro effettivamente è vero le immagini sono viola nelle cose però è strano che l'abbiano ricolorata mi viene il dubbio che sia stata ricolorata dopo perché la vedo più probabile però cioè mi pare strano che di originale abbiano fatto in cose e poi lo abbiano fatto verde non lo so grazie a Charlotte Blanca per il follow grazie c'è scritto nelle note del fumetto stesso quello dei grandi scenari classici non mi filo non mi filo è la giornata di Nicola Peruzzi questo quando è che è uscito 18 euro costavano meno però il tempo questo va solo 18 nel dubbio una botta gliela darei infatti se vai su Amazon ci sono delle recensioni pessime proprio via della ricolorazione vabbè quelle ci sono sempre indipendentemente che sia vero o falso che la ricolorazione piaccia o meno sì comunque si vede che effettivamente però che strana questa cosa misterioso poi immagino che tutte le recensioni pessime abbiano avuto la versione originale pubblicata non so dove vediamo dove l'hanno pubblicata precedentemente parabola e parabola anche in originale io la pubblicità su comics box quanto rompe il cazzo no no è parable parable cortomaltese l'abbiamo fatto anche su marvel italia nel 96 l'edizione era questa qua del 96 era questa? no aspetta no no decisamente non era questa la del 96 non la possiedo e poi marvel graphic novel 3 nel 2004 era questa qua e poi classici del fumetto nel 2005 nel 2014 questo qua quindi questa qua ce l'avevo da un po' di tempo prima direi però non lo sapevo di averla e quindi poi l'ho ricomprata così mi sapevo che con la sua verità tex e zagora non avendo mai letto nulla di tex né di zagora mi ho scoperto che non è vero che devi leggere ma non è vero allora basta con ste stronzate ma che cazzo te ne frega di come sia finito zagora in texas che cazzo te ne frega non è vero che devi leggerle dovete superarle ste stronzate non vi serve sapere tutto non è che se non avete letto la spiegazione di com'è finito non lo potete gli alberi di landog che seguono qualcos'altro si capiscono perché è bonelli funziona così su e che cazzo no non sono incazzato però dai non ho mai letto nulla di capitano america io continuerai a non leggere niente ti consiglio di non comprarti il cofanetto intero se non hai mai letto niente di capitano america a parte il volume cioè comprati gli albi singoli piuttosto che il cofanetto intero magari non ti piace poi è bello è cap di brewbacker però magari non ti piace non lo so io non spenderei tutti quei soldi di botto poi vedi tu magari non è il tuo tipo di narrazione cosa ne pensi di hunter hunter bello trovo che hunter hunter sia la perfetto connubio fra lo shonen manga più commerciale ma anche l'autorialità su carta che solo alcuni maestri del manga riescono a tirare fuori mi piace tutta così magari leggi qualcosa di brewbacker prima è tipo peraltro non c'è molto di meglio su k a parte quella run beh recenti fighe ce ne sono tipo tutta la parte di secret secret cos'era secret non mi ricordo secret empire ti prego no oggi non ho sentito fin troppi tutti in spagnolo però di che per per guardare le vignette basta invece di leggere le vignette possiamo guardare non ho capito droide però davvero sta cosa che dovete leggere le cose comunque mi è piaciuta la puntata di oggi di okai è una sorta un po' inutile se devo essere sincero fratello Uldra posso dirlo che era proprio una puntata filler che poteva anche non esserci se non per quei cinque minuti finali tipo che poi non lo so mi sembra un po' carino cioè ha un po' questo spirito da serie vera procede non procede cioè leggo i numeri nuovi in parte concordo che rende le interazioni tra i persiani tra i persiani eh le interazioni tra i persiani io me le sono perse le interazioni tra i persiani miglior per te pare leggo un sacco che palle un po' rotti i coglioni ciclope diventerebbe più forte se perdesse i capelli come Saitama sicuramente sì perché in quel modo dovrebbe più pelle esposta e potrebbe assorbire più energia solare e quindi sparare raggi più forti sì lo fa apposta Cesare Dani dai è ovvio su cioè su carina ma è una puntata un po' inutile non succede niente no vedemi un secondo devo soffiarmi il naso vi metto la sigla c'è un ragazzo molto fortunato pieno di lego con un bel lego si chiama Umberto ma per gli amici è pelati e fumetti tutti i giorni vi dice le cose nuove che escono e tutti i giorni vi monta i gunda come si fa a non volergli bene sono tornato comunque dicevo almeno non c'erano le scenette del tipo affermazione dell'handicap come normalità e anzi meglio della normalità già tipo senza tecnologia saresti molto meglio mamma mia quanto è stata cringe quella scena mi ha veramente ucciso comunque ma si c'è nel senso adesso siamo sinceri la parte in famiglia di Kate non aveva un cazzo di senso considerando quello che lei sospetta dai figa su adesso devi anche scriverle bene le cose potevi scriverle in un altro momento quella scena lì perché diventa un po' no sì fuori come puoi immaginare a Santa cosa cazzo il giorno è oggi l'inquisizione di Maria credo sia oggi giusto escono sempre un sacco di cose nei festivi è proprio il giorno migliore per l'immacolata inquisizione di Maria è tipicamente il giorno in cui escono fumetti nuovi succede sempre ma esatto Umberto Eco bravo sì me lo ricordavo alle poze stavo scherzando era una battuta grazie qualcuno sta guardando il mio video non ho visto 86 persone vediamo se qualcuno l'ha preso già per sé sul serio riesco le tue teorie chiaramente fate non fossi come forse no allora sempre meglio ricordarlo cosa sì no io vorrei ricordare a tutti il fatto che molti di voi probabilmente sono convinti che effettivamente 2000 anni fa un angelo si è sceso sulla terra abbia messo in centro una donna imponendogli le mani e ci credono perché gliel'ha detto il prete o la mamma e il papà quando erano piccoli viva la religione comunque a parte la religione guardiamo dei fumetti viva la religione viva la religione no dai no dai Umberto non lo diciamo non è vero tranquilli potete credere in quello che volete anche se non avete nessuna base soprattutto se siete degli scienziati tipo non lo so sono uno scienziato cerco di dimostrare che l'omeopatia è una stronzata perché perché ovviamente non ha nessuna base scientifica non è possibile provare il laboratorio che funzioni così come non è possibile facendo delle statistiche vedere che abbia effettivamente più effetto un placebo o l'omeopatia perché perché non funziona ed è una fanfalucca inventata duecento anni fa da un tizio che decise che mmm nei vetrini del fegato dell'anatra vedo delle bollicine sono sicuramente degli corpuscoli che potrebbero curarti non erano corpuscoli erano bolle d'aria perché non sapeva preparare i vetrini già le basi dell'omeopatia sono uno scienziato e studio per farlo perché sono uno scienziato però poi vado a casa e prego Dio perché mi hanno detto che mille anni fa una tizia è rimasta incinta dello spirito santo viva gli scienziati comunque guardiamo dei fumetti strani e particolari usciti tanti tanto tempo fa che ho trovato prima ravanando nella cabina armadio dove tengo i fumetti il primo che vi faccio vedere è gli incredibili X-Men annual tre fumetti usciti tanti anni fa costavano 6.000 lire 5.000 lire no costavano 5.000 lire ma poi sono aumentati a 6.000 lire ed erano fumetti che uscivano solo in fumetteria in teoria lo potete capire dal fatto che c'era scritto niente perché era il periodo in cui non scrivevano niente forse questi non erano usciti in fumetteria sapete non mi ricordo però costavano tanto non lo so forse questi erano usciti anche in edicola non me lo ricordo però comunque sono molto vintage e c'erano queste storie di Ian Churchill col potere pelato ovviamente potere pelato sono 80 pagine in realtà 80 pagine 5.000 lire che corrispondono grossomodo a 2,5 euro di oggi con 2,5 euro oggi non ne compri nemmeno 24 evviva che anno era? era il 96 poi avevamo il numero 2 vediamo se era già aumentato davvero cioè se erano di più le parti sì sì c'era già stato l'aumento fra un numero e l'altro qui 5 qui 6 è sempre bello beccare gli aumenti la seduzione di tempesta da X-Men annual 3 del 94 e da X-Factor annual 9 del 94 oh c'era Chuck Xavier e Aven e boh che cazzo è questo? non ne ho idea bello però 94 cioè 96 era uscito a settembre 96 e poi appunto c'era il terzo bello la cover mi piace molto però è chiaramente Liam Sharp attuale disegnatore di Batman Reptile che infatti è questo qua questa era molto tamar c'era ma è l'Ilandra sì è l'Ilandra ma sembra più selvaggia del solito qui c'è una specie di notare come chiunque era scosciato anche Giubilee ai tempi si vestivano come ehi sono gli anni 90 indossiamo solo delle mutande questo è il mio costume non mi ha fatto sexy che belli gli anni 90 solo uomini ipertrofici e donne seminude no si lasciano si sono lasciati così con l'Ilandra e Xavier uno Xavier strano tra l'altro pieno di strane rughe che non credo che ha dovrebbe avere e poi invece qui abbiamo Capitan Bretagna quando era Bretagne uno dei suoi molti aspetti poi c'è Psylocke stranamente seminuda e il fratello attuale re di altro mondo tipo re di Avalon tipo ad altro mondo che bello non era colosso era un tizio alieno è questo solo che è grigino e quindi sembra un po' colosso ciao Daniel benvenuto e grazie del follow poi ho appena visto il tuo video sulle teorie su Akkai dico solo una cosa grazie grazie è molto bello sono convinto che sia andato così poi ho questo numero incredibile ovvero magnito zero strano questo effetto ma non è polvere è proprio così il fumetto magnito zero e anche qua non è rovinato è buco di fumetto qua è un po' rovinato magnito zero cosa conteneva magnito zero un fuoco nella notte ma sono storie classiche tipo John Bolton cioè magnito che sogna i campi di concentramento magnito e la moglie che sogna la moglie che muore probabilmente sono storie non so da dove arrivano queste erano tratte da classic x-men 12-19 più uno speciale di x-men unlimited quindi erano storie classiche di magnito anni 80 molto molto figa io magnito oggi ho letto un fumetto degli x-men in cui x-aver menziona un periodo in cui gli erano spazio e fa senso con una donna uccello è questo è letteralmente lei è letteralmente lei è questa è l'ilandra è lei non è una donna uccello però vedi che c'ha le piume tipo era la fidanzata di xavier durante anche x-men ma da sempre cioè non posso segnalarti in che punto è successo è una roba che è durata anni era la van di clermont comunque e anche successive penso in alcuni casi non lo so non credo perché non sembrava in mouse forse avesse poteri magnetici comunque abbiamo questa bella pin up della x-factor family dell'89 con anche anche boomer e i nuovi mutanti bogdanov e algmilgrom belli però i disegni di questo mi piace molto e poi abbiamo un classicissimo alfiere disegnato da baciaro ma perdono da pacheco top avevo tre anni quant'è in vigore l'euro io no e menzognero e poi abbiamo wolverine contro l'incredibile hulk dagli archivi marvel la prima apparizione di wolverine questo è un altro albo edizione attiratura limitata 5 euro c'era l'hulk grigio ma ovviamente non è questa la prima apparizione ed è in questa storia qua con wendigo in cui hulk va nella giungla no la giungla va nella foresta tipo grazie al ritorno di alessandro 444 bentornato il costume della prima apparizione di wolverine è inguardabile beh è quasi quello classico un po' modificato comunque qua appariva wendigo bello wendigo bello sono wolverine alla fine il costume è quello cambia solo un po' la maschera le hanno giusto fatte un po' più figa credo che le pigli wolverine no però guarda uccide wendigo sembra caverna non è nessuno è cattivo oh no bello e poi basta wolverine finisce niente questa è tipo l'ultima apparizione di wolverine sviene e basta non appare più poi abbiamo una storia di wolverine con ercole che bello dove lo hai preso cosa questo l'ho preso in fumetteria nel 98 tipo ma ercole è sempre stato nell'universo marvel fratello uldra è uno dei membri dei vendicatori da boh gli anni 70 poi a un certo punto ha smesso di vestirsi così più che altro secondo me non avrebbe dovuto questa è una card in realtà oh sabre dove l'hanno pubblicata questa miniserie me la ricordo ma non mi ricordo dove l'hanno pubblicata ma te e ma a te manga io non ti ha chiesto di sponsorizzarli no e abbiamo un altro speciale di wolverine sempre limitato da fumetteria però c'è anche la cover completa doppia cosa con sole ardente silver samurai e roba boh gigante ma che bello c'è la c'è la no cristiano grassi vabbè l'ultimo ronin è di jeff lobe ralph macchio pubblicata su wolverine 96 che era tipo un annual disegni di edme guinness non me la ricordavo era il periodo in cui wolverine non aveva l'adamantio infatti c'ha gli artigli d'osso ciao debra debrago92 benvenuto grazie del follow ma parlavi con me sono io che sono pieno di pischelle stra pieno credo sia silver samurai questo tizio solo che non è silver e c'è una roba gigante ovviamente ma questo è solo ardente in una versione parecchio tamara aspettate c'è qualcosa che non mi torna ma ma non sembra ah ma era era il wolverine quasi bestia con il naso però è una via di mezzo al wolverine bestia senza naso perché poi usa il costume che usava wolverine bestia senza naso effettivamente però non lo ha voluto disegnare troppo inumano era quel periodo in cui stava tornando normale in che anni allora fratello Urza secondo te wolverine 96 in che anno è uscito visto che era tipo un annual che vantaggi dà allo streamer abbonarmi gratuitamente a prime che mi pagano uno strano uno strano li do i soldi o è l'unione degli abbonamenti eh li do i soldi o è l'unione degli abbonati che danno i soldi potere dei soldi vieni a me in che senso scusami cosa vuol dire domani cominci a far uscire invincible con cadenza trimestrale ok glielo dico se vuoi mi insultano però in live l'unione dei soldi hanno fatto una no l'ho visto anch'io ho visto il hanno fatto tipo il mini trailer di spider-man l'ho visto in un video guardando un video su youtube grande lollo che è sottoscritto un abbonamento con prime ma ora che ora che hai sottoscritto un abbonamento con prime riceverò io i soldi o è l'insieme dei prime dei soldi che si uniscono ai miei soldi a te a cosa do a me non dai un cazzo è semplicemente che per ogni abbonato prime prime ti dà dei soldi ovviamente non ti dirò quanti soldi perché prime non vuole che ti dica quanti soldi prime amazon non vuole che si parli di soldi sui canali twitch e quindi non ti li posso dire mi dà esattamente 7,22 euro abbonamento già 7,22 sicuramente è così considerando che l'abbonamento base costa 3,99 la sua presenza mi devasta sì ora sei tu che dai dei soldi a twitch no non voglio dare soldi a che ora domani 21 eh what su salda no è 17 infatti la live di domani inizierà più tardi la mia penso è mezza 7 sei come capitan planet quando fai il potere dei soldi esatto sì ho meritato tra amazon e twitch no è semplicemente twitch amazon è twitch semplicemente twitch non vuole che si parli di quanto o ci incassi anche perché non lo so l'hai fatto l'albero di natale sì è qua no non si vede aspetta è qua no dov'è l'albero è qua ah è qua l'albero vedi si vede poco perché c'è coso verde dietro dovrei mettere un qualcosa più di non verde dietro così si vedrebbe meglio no ho tanti mini alberi in realtà guarda ce n'è uno anche qua ce n'è uno qua questo non si vede perché c'è il coso mi sa no qua questo non si vede perché c'è davanti il muro ecco così si vede e perché non si può sapere perché a me dà fastidio abbonarmi gratuitamente ma pensare che do soldi agli strumenti eh cioè a te dà fastidio pensare allora sai cosa ti dico visto che ti dà fastidio l'idea di dare dei soldi agli streamer io ti banno così di base ciao eeeh 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 aveva rotto il cazzo dai era qua per trollare cioè lo sento solo io l'effetto troll su ciao Manuel secondo te è proprio un coglione ma no fratello Uldra il ragazzino ignorante non ti dice cercando di provocarti no perché a me da fastidio abbonarmi gratuitamente ma poi che lo streamer prenda dei soldi ma vaffanculo dai è tutto il discorso che non è un cazzo di senso tu è proprio un discorso di voler rompere le palle e dire no poi perché cioè lo capisci che non è un cazzo di di era un fan di mangaka vabbè comunque volevo farvi vedere che qui dentro aspettate sì tu lo paghi il prime ma vabbè c'è Wolverine Graded Stitz ha fatto una sorta di Cristiano Grassi ha fatto una sorta di cronologia degli episodi di Wolverine con numeri speciali miniserie storie inedite da protagonista apparizioni extra X-Men e basta e poi qui c'è Red Ronin vive ah e c'è anche una storia classicissima dentro con Wolverine così e X-Factor e i nuovi mutanti strano sì mi sa di sì Alex Nightfall però questo non è Wolverine questo è è un numero speciale è Marvel Eats 3 Arcangelo e Arcangelo è un bel fumetto non me lo ricordo in realtà è in bianco e nero wow di chi è? questo non mi ricordo nulla è un bel Leonardo Manco tipo e infatti è Leonardo Manco Peter Willing Peter Milling Leonardo Manco una storia in bianco e nero con Arcangelo non è malvagiazza ma che figo sti disegni questi americani che bianco e nero in manga sono più belli in generale mica sempre a volte sì a volte meno c'è uno strano pacco a palla Angelo tanti neri come mio e questo era tiratura limitata 3500 lire costava poco questo ed è uscito vediamo nel 97 sì nel 97 questo poi cosa abbiamo di bello oh questa era la serie regolare del punitore che usciva direttamente in fumetteria era un tentativo è durata tre numeri tre ci hanno provato non ce l'hanno fatta quella volta ed erano storie un po' a caso perché aveva chiuso la serie di Star Comics Panini cioè al tempo era ancora Marvel Italia ci ha provato beh molto figa la copertina di vediamo 65 e Marvel Comics presenta 101 c'era anche Cap era una storia un po' è il castigador non erano ancora i tempi di Ennis diciamo visto come si conservano bene mettendoli va la carta ingiallita per colpa delle bustine perché non le metto nelle bustine ma in realtà era Punisher sulla copertina ma mi sa che era Punitore dentro vedi infatti era Punisher solo fuori e poi c'era il 2 con Spider-Man ma non stava funzionando edizione riservata al circuito librario era una roba abbastanza inedita ai tempi non l'avevano ancora provato a farlo in questo caso non funzionò benissimo come ho detto erano tre episodi qua sì 68 69 e poi hanno fatto questo che invece era Mark Texeira che aveva uno stile un po' più di impatto questo è il famoso cane del Punitore il fumetto di prima era di Milligan dovrebbe essere l'autore che creò Toxin beh sì può essere Milligan ha fatto un sacco di roba ora questo credo sia il Punitore nel mondo di Kenny il Guerriero così a naso va tipo all'inferno è tipo il diavolo sarà un incubo sì infatti era un incubo poi c'è Microchip che era l'alleato del Punitore era tipo il suo programmatore tipo l'uomo sulla sedia per capirsi parlaremmo alla Spider-Man classic Punisher e niente però vediamo cosa dicevano niente non dicevano niente alla fine del terzo numero ma neanche qua in realtà c'era la cosa continua nel prossimo o magari alla fine c'era scritto qualcosa no fine non so poi le storie successive se le hanno recuperate in qualche modo o no presumo no poi cosa abbiamo di bello abbiamo 144 Classic Zero con cover di Alex Ross direi così a occhio che riprende la cover classica e che contiene il matrimonio della di 144 così a caso che è tipo il Fantastic Four Annual 3 è Spoiled Daredevil oh Kang il Conquistatore Miss Krul o Skrull il Fantasma Rosso le sue super scimmie Nick Fury Bianco l'uomo Talpa gli X-Men guarda chi c'è chi c'è chi c'è l'eroe più grande di tutti Ciclope che sconfigge l'uomo Talpa e il potere pelato non è questo Alex Ross è solo la copertina Angelo Masullo nei panni del punito ma perché Angelo Masullo nei panni del punito Ramatut in realtà è Kang forse non si sapeva ancora che era Kang quando è uscito questo il Super Skrull comunque auguri un egizio era no in realtà quello è Kang Kang dal trentesimo secolo mi pare o quando cazzo era era Ramatut lo sto dicendo torna dietro nel tempo ai tempi degli egizi diventa Ramatut il faraone tuttoso il faraone dal futuro e tra l'altro si incontra Apocalisse dopodiché diventa Scarlet Centurion tipo poi Kang poi Immortus e vabbè davanti così poi abbiamo qualcosa di ancora più figo ovvero Heroes and Legends un altro albo solo per fumetteria con un'altra copertina wrap around che se no la gente si arrabbia wrap around non so chi sia l'osservatore potere pelato il dottor destino il cavaliere nero no non è il cavaliere nero mi sa è uno dei cattivi che non mi ricordo come si chiama però c'è anche ciclope e potere pelato potere pelato quanto potere pelato notate la la simmetria del potere pelato Xavier e il marionettista il fantasma rosso il fantasma rosso e poi anche Krull che cazzo si chiama si insomma il tipo sfigato dei film di Thor Ragnarok innocent non l'ho letto direi ah il protagonista è un bambino ok non me la ricordo questa storia ah no è davvero il cavaliere nero ah ma forse era tipo lo zio non so in quando è ambientata questa storia bello il costume di Scarlet comunque questo è Phil Sheldon quello di Marvels c'è Devil è un triangolo ci sono gli X-Men l'esecutore e poi vabbè megalotta poi cos'altro abbiamo abbiamo qualcosa di Capitano America così a occhio ed è Heroes and Legends 98 che è tipo il seguito di questo direi però con gli Avengers storia di James Felder e Stan Lee disegno di Sal Buscema di Kier Steve Dictor Jill Kane e basta tratto da appunto fa un po' ridere perché Heroes and Legends 98 è tratto da Heroes and Legends 1997 perché da noi è uscito un anno dopo quindi mentre questo era Heroes and Legends e basta che è uscito nel 96 vendicatori uniti ci sono tutti i vendicatori c'è Iron Man c'è Occhio di Falco se avete visto la serie e non lo sapete ovviamente il costume che disegna Kate è esattamente il classico costume di Occhio di Falco Gervis Capitano America Occhio di Falco in costume e basta non credo fosse un gran albo poi abbiamo qualcosa che non ho idea di cosa sia ah sì questo è Marvel Shadow of Enlight all'interno Wolverine Dracula bello questo Dracula è un Dracula molto anni 80 come stile ha tipo la permanente ma anche Capitan Marvel è il Dottor Strange e sono ovviamente ah no non sono stani bianco e nè ah no in parte sì sono in parte in bianco e nero e in parte a colori così a caso tipo qui c'è un Wolverine con gli artigli qui c'è una storia in bianco e nero ma è Ladron? sì è Ladron una storia di di Dracula e vabbè questo direi che non è Blade scusate sì ok Blade perché perché è Dracula e poi la storia invece è Blade cacciatore di vampiri sono indecisi cioè Blade il cacciatore di vampiri ok e poi vabbè incontrerà Dracula immagino però forse forse a un certo punto forse no ok beh ecco perché non è una storia di Dracula fondamentalmente perché appare nell'ultima pagina sembra sembra un po' i nemici di Jojo così a guardarlo comunque molto belli mi piacciono molto i disegni di Ladron in realtà ciao fumetto anzi ti chiamerò fumetto underscore 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 benvenuto poi abbiamo Capitan Marvel molto dark con lo spettro rosso e le sue super scimmie e anche Anilus e Blastar e poi Doctor Strange di Michael Golden John Bitty e Al Milgrom carino sarebbe stato bene anche a colori questo probabilmente una storia a cui hanno tolto i colori effettivamente però carino prima o poi devo riusciermi a recuperare Ascani eh sì dovresti assolutamente non so come si trovino oggi però magari una domanda stupida in quale run compare Occhio di Falco nei piani di Ronin sai che non mi ricordo esattamente erano penso O Secret Avengers o comunque le robe di Bendis in teoria però sinceramente a memoria non me lo ricordo però non ci vuole tanto e basta che cerchi Occhio di Falco su database però non mi ricordo quali erano le storie anche perché Ronin è sempre Ronin viene sempre usato così appare Ronin non si sa chi cazzo c'è dentro e poi a un certo punto della run scopri chi è per cui gli unici fumetti di Marvel che compro sono Capitan America e Daredevil e il resto di DC Comics ok ti scusiamo per questo Batwoman chiaro prima o poi o hai fatto una domanda che non ho letto no non sembra ok va bene Secret Invasion non credo fosse Secret Invasion penso prima però non lo so cioè non ci vuole molto in realtà basta che cercate Ronin Marvel Database vediamo vediamo quanto ci si impiega a trovarlo Ronin e Ronin è stato Clint Barton Maya Lopez Alexis Shostakov e altre persone anche Eric Brooks non vedo di chi sia Alexis Shostakov non è tipo il super soldato russo quello si infatti è Red Guardian tipo allora Echo appare per la prima volta Maya Lopez appare per la prima volta in Daredevil 9 come Echo come Ronin appare su New Avengers 11 del 2005 ora occhio di Falco come Ronin non mi ricordo vediamo se c'è scritto sì nel 2007 su New Avengers 27 credo che era scritto da Bendis quindi di Lenin Fancy CU per cui erano i New Avengers di Bendis Eric Brooks e Blade Eric Brooks e Blade ah sì cazzo non me lo ricordo mai il nome vero di è vero è che non lo usa mai il nome civile non è neanche un supereroe pensa effettivamente non si poteva chiamare solo Blade Blade vediamo quando è apparso per la prima volta come non c'è scritto come Ronin e l'altro è chiave ok va bene perfetto vi ho risposto nel 2004 è difficile considerato che è apparso per la prima volta nel 2007 però ok sì Clint Barton è stato Juntman ma in storie tipo degli anni boh in realtà era Goliath non era Juntman però il concetto era lo stesso però parliamo di storie degli anni 60 nel febbraio 69 su Avengers 63 Maya come Ronin nel 2004 anche no no 2005 sì quindi è stata prima lei come Ronin non mi ricordo più un cacchio di quella saga lì sì è vero che era prima lei settembre 2005 e ok babbana buh non l'ho mai capito il personaggio di Echo è sembra stato abbastanza inutile però ovviamente è sorda quindi la vera domanda è quanto ci impiegheranno a farle perdere una gamba anche nell'universo Marvel se non l'ha già persa non credo tra l'altro è stata uccisa da Skrull da una Skrull Electra un Electra Skrull intendevo Maya che sto vedendo che era comparsa una run di Bandit sugli Avengers quando c'era anche Sentry sì quella comunque proseguiamo Amazing Fantasy 1,2,3 che erano in teoria le storie di Amazing Fantasy successive alla prima dove appariva Spider-Man grazie a Leda per il ride benvenuti a tutti fumettate insieme a me e qualcuno faccia un sole da grazie stiamo guardando fumetti vecchi probabilmente più vecchi di voi perché sono anziano e che ore è tra l'altro sono le 20 e 12 e io non ho mangiato evviva grazie per il follow aspettate che non ho non ho ringraziato per i follow grazie a Devo Archivista grazie a Unicorno Faccino Rosso il dramma degli unicorni e un altro che non mi è apparso nel feed attività e quindi non so chi è erano due forse non lo so comunque grazie a tutti e stavamo vedendo Amazing Fantasy 1,2,3 quando andrai a vedere Spider-Man quando esce tipo erano miniserie dipinte e tecnicamente sono le prime avventure dell'Uomo Ragno dopo che è diventato Uomo Ragno perché appunto ambientate fra Amazing Fantasy 15 15 vero cazzo io e la memoria siamo amici ma non troppo sì 15 infatti questo è Amazing Amazing Fantasy 16 17 e 18 ovviamente usciti decenni dopo l'originale grazie anche ad Arsenico per il follow benvenuto ciao lei da buona cena erano storie carine dipinte non particolarmente fondamentali però se uno voleva qualcosa di un po' particolare uscivano solo in fumetteria ai tempi non so se le hanno mai ristampate da qualche parte queste storie erano di Kurt Busiek chi se non lui e Paul Lee poi abbiamo Inner Demons che è il primo di una tutta una serie di Marvels presenta ovvero storie che ricordavano un po' Marvels perché in quel periodo post Marvels la storia di Busiek e Alex Ross dipinta super famosa hanno cominciato a farne tutta una serie di storie su quella falsa rega lì questo era di Mariano Mariano Nicezza che cazzo è Mariano Nicezza e non me la ricordo assolutamente però c'è Namor quando aveva ancora barba e baffi poi lo depilano lo depila la torcia umana a un certo punto e ha un po' questo stile un po' dipinto che ricorda quel periodo lì ovviamente qui ci sono le immagini classiche siamo a 3000 forti beh in realtà c'eravamo già poi mi hanno bottato no allora non c'eravamo mi hanno bottato ci siamo andati oltre poi mi hanno tolto i bot e ora siamo di nuovo a 3000 evviva però non sono molto attendibili i follower di Twitch c'è questo problema anche se ho guardato ed effettivamente più o meno i bot li hanno tolti tutti cioè se vai a guardare sui vari siti che analizzano vedi bottata quattro mesi dopo sbottata e adesso qui è stato velocissimo nel giro di una settimana li hanno tolti motivo per cui me ne sbatto le palle se fanno roba con i bot ma perché se ne rende conto ormai Twitch ha messo in mano dei sistemi automatizzati che si rendono conto dei profili bot e li tolgono dopo un po' però ci sono i cretini che amano buttare i follower e quindi si si sono 3000 follower più o meno legit e quindi è positivo top 3000 follower e i duri che belli i duri poi vediamo cos'altro avevamo dopo Inner Demons avevano fatto Strange Tales di Kurt Busiek di nuovo e Riccardo Villagran Strange Tales ovviamente ha questi tema un po' strano c'è Nick Fury 24 un uomo l'alligatore d'oro grande personaggio cosa ci guadagna la gente a buttare niente vuole darti fastidio Jason sono quelle cose che fanno i troll per rompere le palle pagano dei soldi veri per romperti i coglioni il problema è che oggi come oggi non ti rompe i coglioni togli la finestra degli avvisi se c'hai voglia lo segnali a Twitch ma non gliene frega un cazzo anche perché se tu sei in live e fai notare che hai visto che ti stanno buttando e li hai insultati se vanno a controllare lo vedono e non so come si possono recuperare queste bisognerebbe guardare su Comics Box se le hanno ristampate si può essere oppure speriamo non lo so però come puoi notare non c'è mai tutta questa gente per cui anzi ultimamente ce n'è pure meno sarà che è Natale a Natale vuoi c'è anche un drago orribile e la cosa poi abbiamo Ruins che sono due numeri Ruins 1 e 2 Ruins era una sorta di Marvels però in versione drammatica nel senso che tutto andava molto male infatti il protagonista è sempre Phil Sheldon però è tipo un motif per capirsi in cui le cose vanno malissimo tipo questo è un Queen Jet che esplode e questo è Iron Man matto ed è tutto così cioè sono tutte scene estremamente tipo Silver Surfer muore nello spazio questo credo sia Rick Jones col cancro roba così Nick Fury che si uccide il cadavere di Galactus nello spazio beh quello non è così male l'autore Gar Tennis non mi ricordo chi lo scriveva sì no è Warren Ellis beh siamo lì e i disegni di Cliff Nielsen e Therese Nielsen è una roba super drammatica però figa nel senso ai tempi era abbastanza strana perché non eri abituato a leggere cose di questo tipo e ovviamente tutto va molto male vabbè i disegni non erano male la storia era simpatica e alla fine muore anche lui sì può essere che Panini ci avesse fatto un cartonato ma io ve lo dico sempre se volete sapere dove è stato pubblicato è molto semplice basta che prendete Google e scrivete titolo ruins ruins e scrivi comics box e comics box ti dice esattamente dove è stato pubblicato in Italia ovvero vai sul primo numero guardi e ti dice pubblicazione italiana Marvel Presents 3 che è questo e poi ha fatto un cartonato o un volume nel 2020 Marvel's rovine rovine che conteneva rovine più blockbuster più altre robe che ho qua c'era un tipo blockbuster appunto che non me lo ricordo assolutamente era di Mike Barron con Shao Martin Brough vabbè sono sempre così queste qui sono tutti in questo stile qua un po' un po' dipinto con storie particolari c'era Silver Surfer poi avevano fatto l'ultima storia dei Vendicatori di Peter David e Ariel Olivetti erano già Avengers Last Stories ai tempi molto dipinta super drammatica ovviamente perché come tutte le Last Stories finivano sempre molto male però belli i disegni dell'Olivetti già ai tempi non ne aveva fatto male c'è Shulk sono tipo IDN eh tipo ah ce ne erano due non c'era il numero qua vabbè potevano metterci uno e due ma non ce l'hanno messo anche questa era l'altra ultima la zona dei Vendicatori eh ma non ne ho così tante di cose vintage ho un po' di robe vintage The Wanderous Ears che va sempre lì dentro la rovine che è sempre in questo stile qui pittorico un po' particolare la visione Scarlet Scarlet vestita come un essere umano normale la vedova nera non è Scarlet non avevo visto la parte sotto erano due numeri ciclop sempre bello ciclop questo era Ercole vestito in modo più umano sempre tamarva però poi Hulk Ercole qui un Ercole ancora più tamarvo super anni dopo qui è normale in realtà perché qua è perché qui è così e qui è così la saga del dopo Oslo Hulk grigio ah qui è di nuovo tamarvo ok bello poi c'è la morte dell'universo Marvel questo è Gar Tennis con Doug Brigh Brigh White edizione limitata uscito nel 98 Agar Tennis è anche una storia abbastanza famosa questa in cui ammazza tutti ammazza pure Wolverine si non credo che a livello canon basti lanciare Wolverine contro una centrale elettrica per ucciderlo però ok e grazie a Movi la video per il follow benvenuto ciao anche a Veronica oh praticamente lo stesso titolo della fine dell'universo Marvel beh si è la morte dell'universo Marvel e niente era così Frank Castle che uccide tutti poi cosa c'era anche altro forse sono due capitoli non capisco no era solo una cover così messa in mezzo a caso molto simile a Deadpool dell'universo Marvel si ma prima e poi abbiamo lo speciale San Valentino di Marvel Marvel Valentin Special con storie romantiche oh mi sbaciano Tom Payer no è Mark Buckingham vabbè sono simili umberto si chi è umberto sei matto grazie Black Shade per aver regalato un abbonamento a 91 albi a Tex Villa a Tinozza a Elgoritigno e a Mind Hollow e alcuni di questi non so chi siano però Tex e Elgoritigno si due no tipo Mind Hollow ho mai sentito ciao Tinozza grazie 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 Black Shade ci dobbiamo assorbire cinque cavalli a caverna cinque volte bene si grazie per il regalo di Natale anticipato forse è la prima volta che qualcuno regala cinque abbonamenti su questo canale penso di sì sinceramente e umberto umberto ok e dovresti avere guadagnato un VIP in questo modo ora sei VIP 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 l'avevo già fatto Mark prima che me lo dicessi tu comunque dicevo altre storie romantiche tipo questa segnata in stile Archie in cui non so chi siano i personaggi perché non si capisce ok poi c'è il dono più grande con l'uomo assorbente gran personaggio dagli il VIP di Cavada così ora mi hai fatto pensare oh ma questa storia è ambientata prima si è parlato delle nuove avventure di ciclope fenice e questa storia è ambientata in quel periodo lì bisognata fra l'altro da Kyle Hots ma sono effettivamente nel futuro con il piccolo Cable che figo e questa credo sia Jubilee in versione d'archettona con una maglietta e giustamente ciclope regala un cactus a Jean Grey perché ciclope è un uomo vero che ha dei gusti incredibili viva ciclope poi cos'altro abbiamo Marvel Heroes Tributo che non so cosa sia un albo gratuito allegato a Heroes Reborn Pack vietato alla vendita separata grande è un albo esclusivo non è la vera fenice è il clone no non dire stronzate Mark se non sai le cose non le dire chiaro perché questa è Jean e sta ricordando appunto quando era in la mente di Jean e di Scott è stata portata avanti nel futuro all'epoca dove Apocalisse domina la Terra e hanno allevato insieme il piccolo Cable nei corpi preparati da madre Ascani quindi se pensi di poter venire qui sul mio canale a insegnare a me la storia degli X-Men io ti banno così c'è sto per dire ma proprio molto molto oh l'albero generosico dei Richards vedete quello che dicevamo prima Kang in realtà questa cosa qua non si sa infatti non ci sono le frecce se vedete però Kang non è diventato Ramatutti in realtà è sbagliato andrebbe messo tipo qui Kang e qui però vabbè anche se probabilmente questa è un'apparizione più realistica a livello cronologico può essere però e c'è Nathaniel Richards with Richards Franklin Richards quando era Starla cioè no Psylord non ci sono tutte le varie possibilità perché ad un certo punto in un futuro possibile Franklin Richards si sposa con Rachel Gray e il loro figlio diventa Hyperstorm belle storie quindi Doom diventa Kang no è una parentela sconosciuta nel senso che si dice che Kang sia un discendente di destino però forse potrebbe anche essere destino sono quelle cose un po' messe lì così che non sono mai state spiegate al 100% in teoria Kang si chiamava Nathaniel Richards ma non era Nathaniel Richards padre di Reed ma forse un discendente o forse un discendente di destino non si capisce anche a me non dispiacevano le storie di Falcon non erano il massimo della vita ma erano piacevoli comunque questo albo è strano ci sono delle foto su cap su Jarvis insomma era un albo un po' così ma l'altro non era un regalo ci stava bellina la copertina di Giorno Mita Junior è possibile signorino Antonio oppure la cosa sarebbe stata e poi abbiamo Electra Zero tutti i suoi volti tutti i suoi segreti c'è una storia di Alexa di Adam Vega e Stephen B. Jones bello questo qui è un albo fondamentale credo e boh combatte con una tizia con un'armatura rossa e basta e poi ci sono un po' di news c'è anche una storia disegnata da Scott McDaniel in cui Electra uccide un tizio esattamente come lei sta uccisa da Bullseye Babysitter chi non vorrebbe essere avere come Babysitter Electra mentre uccide dei criminali ricordi il Tony ragazzi purtroppo lo ricordo preferirei non ricordarlo Alex Nightfall e poi abbiamo Heroes Reborn Zero lo riconoscete è lui o non è lui certo che è lui è il Capitano America di Brandi Rob Highfield ciao Attila Redegliuni non so cosa contiene questo albo ho quasi paura o l'osservatore ma è disegnato da Highfield non c'è scritto qua non mi sembrava ma qua un po' mi sembra no non è Highfield credo non riconosco il disegno ah no è Fraga credo che bello si è ispirato in questa immagine a quello ufficiale e poi abbiamo anche uno sketchbook molto bello con Bucky Bucky Don la cosa e basta lo fanno tutti Jason non lo fa solo Marvel cioè più che altro è una cosa abbastanza recente quello che stanno facendo di riutilizzarli prima semplicemente li facevano in stile adesso li riutilizzano proprio qui abbiamo una storia di Iron Man orizzontale no solo quella pagina poi c'è un po' di cover che brutto dossier la rinascita degli eroi che poi uno si concentra tanto su Thor cioè su Cap no ma anche questo Thor vogliamo parlarne che cosa posso dire di questa cosa oh Stan cioè almeno i frattici e quattro li disegnava il Jim Lee erano fighi ma persino Iron Man non mi dispiaceva a quello di Portaccio però madonna gli altri erano veramente terribili e comunque tranquilli perché adesso li abbiamo qua perché ho le copertine a parte che ho questo il ritorno degli eroi zero ah no non è vero non li ho ho il ritorno degli eroi ho il ritorno degli eroi zero in doppia edizione ce l'ho sia in versione così che con la versione quel cosa non so perché io spero di non averli comprati tutti e due io spero che uno me l'abbiano dato secondo me li regalavano in realtà spero tipo se spendevi tot sul sito o una roba del genere te lo mandavano credo spero beh in un certo senso è variant sì perché questa non ha il coso e questo ce l'ha l'ho comprato per specularci infatti ce l'ho ancora secondo me ne avevo più di uno di questi ma forse uno l'avevo regalato tra l'altro la carta di sto coso è è velina non so se si nota non credo sia possibile farvelo notare ma è proprio carta velina vedete come si comunque storia fondamentale credo poi c'è l'uomo talpa Iron Man ma credo siano semplicemente le prime pagine delle delle varie serie vabbè questo è lo stesso e poi abbiamo il FNC4 in versione il primo numero del ritorno degli eroi che avevano tutte queste cover qua e infatti ve le ho prese tutte perché così ve le potevo far vedere infatti guardate abbiamo aspetta abbiamo il ritorno degli eroi 0 il ritorno degli eroi FNC4 Iron Man poi c'è Cap poi c'è un po' di tempo dopo è arrivato Thor che era un po' diversa ma lo stile era sempre quello e poi soprattutto abbiamo Ratman contro i supereroi che sono tutte le storie in cui Ratman incontra i supereroi e grazie a MXB25 per il follow quando erano ancora i supereroi Marvel tra l'altro per cui c'è Capitan America c'è l'Uomo Ragno c'è Destino c'è vabbè Destino ok la Belva in noi con Wolverine il Punitore e poi c'è la fine del topo con Plazzi e Electra e Electra tutti a colori tutti in versione molto figa bello e avevano rifatto appunto il ritorno dell'eroe riprendendo l'immagine molto carino tra l'altro questo ho scoperto di averne due perché mi sa che avevo preso prima quella normale poi questa variant che aveva tutte le robe extra non lo so però questa qua effettivamente non era solo la variant ma aveva anche le robe in più perché aveva tutte le queste pagine tipo di sapete che ho il dubbio di averle anche in inglese questa cosa tipo di aver comprato la versione ragcat di Thor completa in inglese vorrei guardare ma secondo me ce l'ho che era appunto la versione con i disegni a matita di Ramita Junior non ne sono certo ma ho questo dubbio continuo la storia ovviamente e vabbè c'era il cap di Wade e Ron Garney era non male alcuni pagine di extra e questo era Capitano America e Thor 47 non so se poi tornava Thor in qualche modo avanti forse ah no Thor non tornava giustamente perché era qua sono un cretino poi c'erano i fantascii 4 di sì era i fantascii 4 di Davis e non mi ricordo non c'è scritto Alan Davis lo riconosco ai disegni ai testi non so se c'era sempre lui non mi ricordo l'obdel l'obdel non mi ricordavo che era Scott l'obdel a scrivere i fantascii 4 non deve essere durato molto però vabbè Alan Davis che gli volete dire è fantastico non è neanche vintage potrebbe essere uscito oggi questo fumetto cioè oggettivamente poi c'era Iron Man i Vendicatori di Kurt Busiek e Sin Chen come è? Chong Chen Chong Chen vabbè era carino visivamente non me ne ricordo benissimo se storie però c'era Stark Solution Tony che tornava alla sua età normale non era più il Tony ragazzino bello e poi c'erano no no non c'erano i Vendicatori perché non è uscito i Vendicatori veniva pubblicato dal mese dopo mi sa la testata dei Vendicatori e si infatti perché sul numero dopo iniziavano i Vendicatori di Perez e Busiek Busiek e Perez gran run però non c'era qua e vabbè questo l'abbiamo già visto basta abbiamo concluso in realtà avevo anche tirato fuori alcuni numeri zero della image ma non so che fine hanno fatto me li sono mangiati probabilmente vediamo se sono in giro devo averli mangiati c'erano ma non ci sono più ce li avevo presi perché erano insieme in questi ma se probabilmente li ho messi via non mi ricordavo hai sentito le novità su Perez no quale Perez George Perez è ancora vivo hai il cancro sei mesi di vita eh non è ancora vivo cioè è ancora vivo per poco povero mi spiace grazie di avermi dato questa bella notizia poverino è anche pelato l'artista ha detto che se di sentirsi sereno è che aprirà un account facebook dedicato per parlare a fan e colleghi a partire dalle prossime settimane confermando anche se di volersi godere le festività natalizie a fianco della moglie io prenderei un Uzi e andrei in giro vabbè no non lo farei perché non sarebbe etico mi dissocio da questa cosa però povero Perez uno dei più grandi autori Marvel di sempre no Marvel no in generale è anche giovane c'ha 67 anni si diventano tipo quelli che stanno per morire nel manga di Ikigami no ma infatti è abbastanza orribile anche perché poi puh ora faccio subito un video dedicato così monetizzo no non lo faccio sto scherzando non lo farei quando muore posso fare la live in lacrime tipo caverna con coso wow vedete che è poco etico oh nessuno sta con sta nessuno mi ha creduto alla mia roba non mi stanno nemmeno flammando per questo video che peccato avrei preferito di sì comunque bisogna dare infiniti infiniti gantlet le ha designate lui sì sì infatti non tutte infiniti gantlet potrò piangerò anch'io ricordatemelo fra sei mesi quando non me ne renderò chissà chissà se me ne hanno già parlato su astromica ah comunque sono quasi a 2000 iscritti anche su instagram e ve lo dico vediamo quanti ne ho adesso 1996 vai dal vecchio nerd non lo so vediamo chi c'è in live allora abbiamo l'uliziv vecchio nerd però cosa sta facendo no perché dipende da cosa sta facendo e se è già in live sì la live di astromica di salda per se sia su twitch che youtube che facebook e anche instagram credo non so come funziona ma lo scoprirò domani credo che devo stare con un telefono così tipo intanto c'ho l'aggancio no a caverna non glielo faccio l'abbiamo già fatto no vabbè dai sta parlando con gente mi sembra un po' inutile farvi il rider al vecchio me quasi lo fa no però Giulia sta giocando mi sembra un po' inutile facciamolo a Masullo Masullo glielo ha già fatto non mi ricordo vi ricordate se glielo ha rifatto a Masullo in live perché lui mi ha fatto a wild se non sbaglio o no ma non mi ricordo me l'ha già fatto non lo abbiamo ma lui me l'aveva fatto vero mi pare di ricordare ma io mi ricordo un cazzo vabbè glielo facciamo lo stesso allora facciamolo a Masullo ride Masullo il futuro è giusto? sì direi di sì spero non stia staccando adesso potete che controllo che sia in live per rifarlo partire in genere poi faccio i live e la gente sta staccando no c'è ancora dai ok va bene dai ci vediamo domani alle 17 su Saldapress e più tardi sulla mia live l'ha già a a a a a Grazie a tutti.